La speranza era sempre quella di riuscire ad arrivare qua per il prestigio che c'è a Milano e soprattutto perché era un sogno fin da bambino e oggi si è realizzato e sono la persona più felice del mondo. La mia aspettativa è sicuramente quella di poter vincere qualcosa e poi ritornare a giocare l'Eurolega per me è sempre stato anche quello un sogno perché comunque giocare contro i migliori giocatori d'Europa e le migliori squadre d'Europa penso che ti faccia crescere come giocatore ma allo stesso tempo ti porta a confrontarti con il meglio che c'è dalla pallacanestro. Ci saranno delle partite molto solide, delle partite molto dure, delle partite in cui dovremmo essere preparati sia io che i miei compagni al 100% sia a livello mentale che a livello fisico. In tutto ciò seguirò sicuramente Simone che lo conosco bene, Cance, Mario, Marco, tutti i vecchi allenatori che comunque prepareranno le partite in maniera perfetta. Quindi ti dico i loro consigli saranno qualcosa di importante che faranno sì che tutto renderà un pochettino più facile. In tutte le squadre in cui ho giocato, anche la nazionale, cerco sempre di aiutare i miei compagni, cercare di portare i vantaggi a loro. Sicuramente tutto quello che faccio a fine partita magari a livello di statistica non si vede sulla mia strisciolina però ti dico per me la cosa più importante è la vittoria di squadra. Simone penso che abbia spinto molto perché comunque mi conosce come persona, mi conosce come giocatore quindi io lo ringrazio soprattutto perché ha capito fin dai primi momenti in cui siamo conosciuti cosa porto alla squadra e ha sempre apprezzato il mio lavoro. Non mi fa paura giocare poco, se non giocheremo tante partite quindi da un lato magari avremo alternati un pochettino tutti quanti poi come tutti i giocatori vivremo dei momenti di forma, dei momenti magari di meno forma. Io voglio farmi trovare pronto da subito e soprattutto nei momenti importanti dovrò essere pronto e soprattutto aiutare, come dicevo prima, i compagni di squadra.